Un anno di governo d'Alfonso, arriva la rendicontazione del governatore d'Abruzzo stilata in dettaglio puntuale con tutte le voci del caso, dalle bollette telefoniche del Presidente, ai chilometri effettuati con la sua macchina, ai fondi ottenuti per le opere. 1 miliardo 289 milioni di euro per il Masterplan, 133 milioni per il Fondo Regioni in transizione, 470 milioni di PSR, 240 milioni di PORFESR, 570 milioni per l'edilizia sanitaria. Abbiamo assegnato 208 milioni nell'arco di 18 mesi, porteremo la velocità adeguata anche in Abruzzo, che sarà alta capacità ferroviaria, abbiamo conseguito la copertura normativa e finanziaria del Masterplan, così come siamo stati noi, introiettando l'energia dei movimenti e dei cittadini liberi nella battaglia contro Umbrina di Ferro a far produrre la norma che ha portato a morte giuridica e amministrativa Umbrina di Ferro. Messo da parte l'anno, appena trascorso D'Alfonso annuncia anche gli obiettivi del 2016, a partire dal piano di sviluppo economico per le imprese, se nel 2015 annuncia di aver ottenuto un aumento di 1774 nuove imprese, con una produzione industriale del 3,4% in più, un fatturato cresciuto del 4,1% e un export che segna un più 3,5%, la vera rivoluzione sarà la gratuità dei terreni e l'abbattimento degli iter burocratici per chi porterà nuovi posti di lavoro. Realizzare pacchetti di investimenti e di attrazione di investimenti, pacchetti ad hoc, pacchetti che convincano chi deve investire che qui è meglio investire. Secondo obiettivo, precisare la collocazione turistica e culturale dell'Abruzzo. Lanceremo l'Abruzzo Open Day per fare in modo che si sappia cos'è l'Abruzzo anche a distanza di centinaia di migliaia di chilometri. Terzo, insediamo il fascicolo sanitario e vogliamo rendere efficace e funzionante il rapporto sanità pubblica-cittadino-persona-paziente. Quarta e ultima annotazione, noi vogliamo fare in modo che in questa regione, per esempio, ci sia anche la sicurezza nel percorrere le distanze stradali e autostradali. Sono molto preoccupato per l'altissimo numero di incidenti che si verifica lungo le autostrade abruzzesi perché c'è una sbagliata modalità di eseguire la manutenzione. E poi nuovi corridoi dei trasporti con l'accordo siglato tre giorni fa con quella che lui definisce la Corte Celeste dei Trasporti della macro-regione adriatica. Stoppa le lunghe liste di attesa per la sanità e annuncia di pensare a multe per tutti quei cittadini che non si presentassero alle visite facendo aumentare l'attesa di altri richiedenti.